Allora, è il momento dello sport, ne parliamo con Massimo Profeta, ospite in studio. Buon pomeriggio Massimo, perché insomma siamo una giornata festiva, ma anche vigilia di un turno di campionato che dirà molto sul Pescara, sul suo momento, insomma, per capire se i segnali che abbiamo visto nelle ultime prestazioni poi avranno continuità. Insomma, presenteci questa gara di domani e soprattutto anche questa situazione un po' atipica che si vivrà sugli spalti. Assolutamente, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici in visione e ad ascolto. Carmine, bisogna riconquistare intanto l'Adriatico Giovanni Cornacchia senza tifosi. È un po' questa la sintesi perché la Curva Nord domani sarà chiusa per la scolifica dopo i fatti di Lucca dello scorso 22 ottobre. Gli 804 abbonati della Curva Nord non potranno accedere in altri settori dello stadio. Poi, tra l'altro, c'è la solidarietà anche da parte degli altri gruppi tifosi organizzati del settore distinti che diserteranno l'appuntamento. Ecco, Massimo, ma non c'è una soluzione per questo problema? Cioè, io ho pagato un abbonamento in un settore, non posso vedere la partita? Purtroppo no. Purtroppo non c'è una soluzione perché, tra l'altro, c'era stato anche il preannuncio di reclamo da parte del club assistito da Flavia Tortorella, poi però non è stato presentato il ricorso perché il legale Flavia Tortorella ci ha detto proprio testualmente che non ci sono i margini. E quindi, purtroppo, la situazione è questa. È una situazione anomala. Probabilmente saranno, anzi, sicuramente saranno rimborsati i tifosi della Curva, però domani non ci saranno tifosi, diciamo così, al seguito. Saranno tutti all'esterno dello stadio, faranno sentire la propria voce. Sarà una situazione, se vogliamo, un clima surreale, no? Perché ci saranno pochi spettatori, al massimo 2-3 mila all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Però il Pescara deve vincere questa partita, non la deve steccare. Sta facendo bene in quest'ultimo periodo. Tre vittorie consecutive, Coppa Italia compresa. Ricordiamo anche il successo con il Latina. Viene da questo 5-0 roboante, no? Una prestazione sontuosa sul campo del Ponte d'Era nel recupero di martedì. Questa è la classifica. Il Pescara che attualmente è quinto in graduatoria con 27 punti. Però il Pescara non vince in casa Carmine dallo scorso 2 ottobre. Quindi è una sorta di tabù da sfatare. Il 2 ottobre vinse l'ultima partita davanti al pubblico amico contro il Gubbio per tre reti a due. Vediamo le notizie dal campo. Perché Franchini non ci sarà per un problema di natura muscolare. accusato proprio ieri. L'abbiamo scritto sul sito www.rete8.it all'altezza proprio del flessore della coscia sinistra. Sembrerebbe. Usiamo il condizionale. Niente di rilevante. C'è stata un'ecografia ieri a cui si è sottoposto il giocatore. Non sembrano esserci lesioni. Però ci sarà un'altra ecografia di controllo nella giornata di lunedì. Comunque domani Franchini resterà ai margini. Ai margini anche lo scorificato squizzato. Diamo uno sguardo alla probabile formazione. Rientra Pierno che comunque ha scontato il turno di stop. Causa squalifica nella trasferta nel recupero di Pontedera. E allora che cosa potrebbe accadere? Intanto in difesa e in attacco non si prevedono cambi. E questa è già una notizia. Perché Zeeman fino a qualche settimana fa aveva effettuato tanti cambi di formazione. Invece sembra aver battezzato a questo punto un undici tipo. E' chiaro domani non ci sarà squizzato. Quindi gioco forza. Ci saranno dei cambiamenti a centrocampo. Alloi davanti alla difesa. Con Tugnov che potrebbe essere rilanciato quantomeno dal tecnico Boemo dopo due panchine consecutive. De Marco nella posizione di Mezzala. Un giocatore molto prezioso. Dietro e davanti non ci saranno novità. A nostro avviso complizzare i tre pali. Floriani, Pellacani, Mesic e Milani. E davanti Merola e Cangiano a supporto di Cuppone. Ci potrebbe essere anche la variante D'Agasso. Che è un giovane molto promettente del 2004. Potrebbe giocare da play. Così con lo spostamento di Aloy nel ruolo di Mezzala. Staremo a vedere. Noi propendiamo per questa previsione di formazione. Vediamo invece l'Olbia. L'Olbia che non attraversa affatto un buon momento. Ha soltanto un punto di vantaggio sulla zona play-out. È una squadra molto giovane. Allenata da Leandro Greco. Ex giocatore della Roma e non solo. Ma anche del Verona e del Livorno in Serie A. 4-4, 1-1. Il sistema di gioco. Spicca la presenza di De Sena che non ha bisogno di presentazioni. Un ex. Ha giocato nel Pescara nella stagione 2020-21. 13 presenze e 3 gol. A 36 anni ha già realizzato 3 gol. È uno dei migliori marcatori dell'Olbia. Giocherà a centro campo. Naturalmente al fianco di Biancu. Poi Contini e Cavuoti. Cavuoti di vasto. Un elemento molto promettente. Classe 2003. Poi davanti Ragazzo alle spalle di Scapin. Scapin che dir si voglia. Ragazzo è sicuramente il giocatore più rappresentativo dell'Olbia. Oltre 200 presenze con 80 gol realizzati. Un classe 91 che ha anche giocato nel Lanciano. Una stagione 2013-2014. Queste le probabili formazioni. Tra l'altro ci deve dire Carmine che l'Olbia, il presidente dell'Olbia, è un pescarese. Alessandro Marino, manager di successo. L'Olbia ha cambiato proprietà. Però Alessandro Marino, 48 anni, ha conservato la carica di presidente. Quale potrebbe essere secondo te il tema tattico di questa gara? Il tema tattico? Io presumo che l'Olbia arriverà all'Adriatico Giovanni Cornacchia per cercare di difendersi e puntare il contropiede. Un po' come tutte le squadre che vengono a giocare a Pescara. E quindi dobbiamo aspettarci un avversario chiuso nella sua metà campo, pronto a ripartire. Però il Pescara adesso sta bene anche dal punto di vista psicologico. Hanno fatto bene queste vittorie. È tornato il sereno. C'è più continuità, c'è più convinzione nei propri mezzi. E' chiaro che questa è una partita che non deve essere steccata per tantissimi motivi. C'è da dire anche che il Pineto giocherà domani. Volevo proprio ricordare il Pineto che affronterà la Juve Under 23 sul neutro di Alessandra. Il Pineto ha totalizzato ben 20 punti in 11 partite e viene da 5 risultati utili consecutivi. Bene, grazie Massimo. Ecco qua, rivediamo insieme la giornata. Ci sono anche altre gare interessanti. Insomma, c'è anche delle insidie un po' anche per le prime. Oppure pensi che non ci siano sorpresi dietro l'angolo, non volendo fare comunque un pronostico in generale. La Spalla e l'Intella che è una gara interessante. Però sono due nobili decadute in questo momento. Esatto, tra due squadre che hanno profondamente deluso in questo campionato. La Spalla è in piena zona play-out. L'Intella sì, è cresciuta con un nuovo allenatore, però insomma ha anche perso con il Pescara. È un momento molto ma molto difficile per le due squadre. Il Cesena continua a non avere ostacoli, sembrerebbe così. E poi c'è anche la Torres da valutare. La Torres che è la grande sorpresa di questo campionato, che però affronterà l'Arezzo. È una squadra che può mettere in difficoltà a mio avviso la formazione sarda. Il Pescara deve fare il suo percorso, secondo me non deve in questo momento guardare la classifica. Deve continuare a crescere come sta facendo. Tre vittorie consecutive, ripeto, sta crescendo anche l'autostima e secondo me le prospettive sono interessanti.